Sì, sono molto contento della gara, è stata una gara molto lunga, però sappiamo che all'inizio potevamo andare via perché avevamo un buon passo e niente, alla fine ce l'abbiamo fatto, poi all'ultimo un po' ho amministrato, ho ottenuto perché con il consumo delle gomme avevo paura di fare una cavolata però adesso pensiamo a gara 2